Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in una nostra nuova intervista. Oggi siamo qui con Fabio, il nostro studente Fabio, e sono veramente contento della sua scelta di regalarci un po' del suo prezioso tempo per dirci un po' come si sta trovando nel nostro progetto Sfera, quali sono le sue opinioni in merito e perché mai un giorno ha deciso di farsi seguire da questa persona così dispotica e arrogante come sono io per realizzare quelli che sono appunto i suoi obiettivi. Ciao Fabio, eccoci qua. Ciao Filippo, ciao, piacere mio di essere qui con te. Anche per me. Allora Fabio, di subito a tutte le persone che ti stanno ascoltando, sia nel gruppo chiuso Fitness Illusion, sia qui su YouTube, cosa ti ha motivato a scegliere proprio un percorso online Fabio? Allora, come tu ricorderai dalla nostra prima telefonata, il mio obiettivo del 2020 era quello di avere un bel corpo, cioè mi vedevo ormai non più bello allo specchio, tu lo sai meglio di me, quando la mattina allo specchio ti guardi, ti alzi e non ti piaci, quella è la molla intanto che ti fa scattare tutto. Mi ero imposto nel 2020 di iniziare un percorso di personal training e avevo già incominciato a cercare un po' come ti visti nella telefonata, un po' in giro, guardarmi intorno, anche facendomi consigliare da qualcuno. Perché poi sono passato all'online coaching e perché proprio a te, te lo spiego veramente in due parole, tutte le persone in cui avevo parlato, che avevo contattato, non mi avevano fatto una bellissima impressione. Uno, perché magari potevano essere bravi dal punto di vista dell'allenamento, della teoria, però dal punto di vista nutrizionale erano zero, avrei dovuto ovviamente approcciarmi ad un altro professionista, pagare un'altra persona, sicuramente queste due persone non si sarebbero mai parlate tra di loro. La mano destra non sapeva cosa faceva, la mano sinistra, e questo è già il primo discorso. Poi sai, io per i motivi di lavoro non ho mai un orario o dei giorni prestabiliti per allenarmi, quindi tutti mi facevano problemi. Ah, ma se non mi dai almeno una giornata di anticipo, io non ti posso seguire. Ok, grazie a cazzo, allora non mi sei utile. Andiamo sull'online coaching, che allora risolviamo questi problemi. Perché proprio l'online coaching della sfera? Poi andando ovviamente a cercare, a spulciare su internet, mi sono imbattuto sui video di YouTube, e ho visto questa persona arrogante, assolutamente molto arrogante, però sicura di sé che quello che diceva, oltre a dirlo con la parlantina sciolta, quindi con sicurezza e quant'altro, diceva cose interessanti, diceva cose diverse rispetto a quello che dicono o che dicevano gli altri personal trainer, o che si sente dire sempre in giro, in palestra, negli istruttori della palestra, e ti porto ovviamente testimonianze. Detto questo, subito ho fatto la mia chiamata, la sera stessa, non mi ricordo se era il 12 o il 13 agosto, la sera stessa ero già dentro al progetto Sfera. Questo è, intanto mi fa molto piacere questo tuo resoconto dettagliato, quindi mi fa veramente molto molto piacere e complimenti. Cosa hai trovato immediatamente nell'entrata del progetto, che magari ti aspettavi, oppure anche qualcosa di totalmente diverso, ancora sorprendente rispetto a quello che erano le tue aspettative primarie? No, beh, guarda, per quello che vedevo dai video di YouTube, mi aspettavo effettivamente quello che mi aspettavo, ho trovato quello che mi aspettavo, un programma di allenamento, subito dopo tre giorni credo, il programma alimentare, il programma di integrazione, il tutor che ti segue, devo fare un applauso a Cristina, veramente le prime settimane lo stressavo, più volte al giorno da tutti i punti di vista, e tuttora ci sentiamo un giorno sì e uno no, sempre per qualunque dubbio, gli mando sempre, ogni volta che mi alleno in palestra, tutti i video, per avere sempre un confronto con lui, se faccio bene l'esercizio, stimoli e quant'altro. quindi nessuna sorpresa negativa da questo punto di vista, ma anzi solo una conferma, e mi è piaciuto molto anche e soprattutto come hai strutturato il tutto, capo tutor, quindi la telefonata di Musti subito, la telefonata di Cristian a seguire, la tua il giorno dopo, il fatto di avere i nutrizionisti anche nel tuo percorso, tutto questo chiaramente fa la differenza inutile negarlo. Guarda, mi fa molto molto piacere che tu lo stia testimoniando qui con noi. a livello di risultati, visto che sono già passati più di due mesi, quindi due mesi e mezzo oramai, due mesi e mezzo. Sì, sì. Cosa stai vedendo davanti allo specchio ogni mattina, Fabio? Ecco, il primo programma alimentare di allenamento, che proprio è scaduto un paio di settimane fa, mi sento più tonico, più grosso, le camicie che, come lo dicevo proprio a Cristian l'altra volta, nella telefonata, l'ultima volta, dovrei fare anche una foto di questo, le camicie che prima mi stavano giuste, ora mi stanno attillate, mi stanno incominciando a stare strette, le magliette pure, ma non è solo un discorso visivo allo specchio, ma è anche toccandomi, sentendomi le braccia, l'addome, è tutta un'altra sensazione. Chiaramente siamo solo all'inizio, io purtroppo non sono mai contento, quindi per me questi sono i primi risultati, e sono contento che ci siano, ma come ci siamo detti con te e anche con Cristian, questi sono solo i primi passi, i primi risultati di un progetto a lungo termine. Tutti si stanno chiedendo in questo momento come mai noi siamo gli unici adesso a non arrabbiarci di queste palestre chiuse, io spesso ho detto che io mi posso arrabbiare o no, non è mia responsabilità fare questo, ma quello che noi dobbiamo fare è assicurare poi un risultato alle persone anche senza andare in palestra. Nel senso, falla trasparire un po' alle persone che ci guardano anche da fuori. Sì, perdonami che ti ho sentito a scatti un momento, puoi ripetere gentilmente. Cosa ti fa stare così tranquillo e sereno che migliorerai anche senza palestra, Fabio? Il fatto che già subito, il giorno stesso della conferma, della chiusura, Cristian mi manda il messaggio, ho detto non ti preoccupare, nel giro di qualche giorno avrai tutto quello necessario, tutte le informazioni per continuare a crescere anche da casa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, Fabio, cosa ti aspettavi da quello che era il progetto Sfera e cosa hai trovato? Perché alla fine tante persone là fuori noti imboniscono con sentenze stupide di massimali, calcolo calorico, eccetera, no? Invece qui hai trovato magari un'alimentazione povera di carboidrati la sera, hai trovato i soliti esercizi. Come? È poverissima di carboidrati la sera, guarda. Racconta un po' quella che è la tua esperienza. No, no, come ti dicevo, in base alla scelta l'ho fatta proprio perché dai video di YouTube tutto quello che tu professavi, dicevi, poi l'ho trovato effettivamente una volta entrato nella sfera. Quindi allenamento, integrazione, alimentazione personalizzata, carboidrati la sera, sì, per fare un esempio, nessuno squat, stacco, quello che è. Anzi, nella scheda che ti ho compilato all'inizio era proprio messo tra gli esercizi che odiavo, effettivamente. Non c'è neanche quella nuova, va bene. Ho mai sofferto la fame, anzi, la prima scheda di alimentazione era mangiavo più di quello che ero abituato, sicuramente mangiavo male, non ero... ed è per questo che non ottenevo risultati. Con i carboidrati la sera, che sia pane, che sia pasta, mai avuto, credimi, un problema da questo punto di vista. Anche l'allenamento, quei pochi consigli che poi magari, col seno di poi, ti sembrano banali, però nessuno mi aveva mai detto e invece in due mesi di palestra ottieni gli stessi risultati che prima magari avevi in un anno o non li avevi proprio. Hai più un senso di rabbia in questo o di gioia? No, per il mio carattere è più gioia. La rabbia il primo giorno poi passa, ok, ok. C'ho azzeccato, dai, con questa scelta. Direi assolutamente di sì. E diciamo, quali sono le sensazioni che provi adesso? Cioè, cambia solamente da un punto di vista fisico a chi sei sentito diverso? Racconta un po' questa cosa. Anche un discorso mentale, ma tu per primo, lo si vede nelle dirette, fai anche dirette, proprio come posso dire, che permette di essere psicologici, nel senso, giustamente tu non essendo vicino a noi, dovendoci seguire da lontano, da lontano tra virgolette, devi ovviamente lavorare sulla nostra mentalità, sul nostro focus, cosa che ovviamente il personal trainer locale non fa, o perché non è in grado, o perché pensa che sia una stronzata, scusando il termine, cosa che invece assolutamente non è. E questo lo vedi già dopo due mesi che a ripassare i tuoi podcast, il tuo Vangelo, risentirlo, riascoltarlo, anche mentre sono in macchina per lavoro, in continuazione, ripetizione, tu me lo dici meglio di me, ti entra nel cervello, dopo un po', ti cambia, ti diventa la tua nuova normalità, quello che prima era la tua non zona di comfort, diventa zona di comfort, quello che prima facevi con difficoltà, perché non eri abituato, eccetera, eccetera, diventa un'abitudine perfettamente sostenibile. E racconta un po' com'è questo Vangelo, ti è già arrivato il cofanetto a casa? Sì, sì, mi è arrivato. Ok, e com'è stato? Racconta un po', racconta un po', diciamo, a chi non ha avuto ancora la fortuna di entrare a far parte di questa community del Vangelo, racconta un po' com'è stato riceverlo, ascoltarlo, leggerlo, perché abbiamo manuali, podcast, guardarlo, con i video, racconta un po'. È stato illuminante, è stato bello, in un senso, tutte nozioni nuove, che tu già anticipi, spoileri un pochettino nelle dirette, nei video su YouTube, ma ovviamente tutte cose, almeno per me, nuove, che poi applicandole, vedi, noti la differenza, e quindi ti arrabbi, perché tutto questo, diciamo, tutti gli altri non lo fanno, quindi, accidenti, ma perché ci deve essere almeno, per me, una sola persona che deve fare tutto questo e tutti gli altri, no, cioè, per me, guarda, nessuno fa quel tipo di videocorso, in quel modo, nessuno ha un libro di testimoniante con 300 persone, quindi hai detto una cosa giustissima, quindi cosa pensi un po' del resto? Qualcuno già ti ha detto che stai migliorando, quali sono le tue relazioni anche con l'esterno, in questo tuo miglioramento, in questo momento, Fabio? sono le relazioni con l'esterno uguali, sia al lavoro, con amici, pochi amici, ovviamente, ma, selezionati, però, sì, per fortuna non sono peggiorate le relazioni, cosa che magari temevo, perché alcuni amici, sì, vorrebbero migliorare, però non fanno niente, e magari quando tu migliori, succede sempre quella situazione che vabbè, tu lo sai meglio di me poi come possibile, e devo dire, no, sono stato fortunato, no, non è successo, quindi vuol dire che sono circondato da buoni veri amici, e diciamo che cosa ti dicono, che sei migliorato, lo vedono già il miglioramento, è già notevole? Sì, vedono il gonfiore, braccia, petto, vedono, ma soprattutto vedono una maggiore lucidità, devo dire, prima andavo avanti di altri cinque caffè al giorno, e comunque più di tanto non non mi svegliavo, la prima, allora, forse ne prendo neanche uno ogni tanto al giorno, e si va come treni. Questa è una gran bella cosa, una gran bella cosa, Fabio, perché spesso le persone valutano il miglioramento solamente dal punto di vista fisico, ma poi capisci che il punto di vista fisico è semplicemente la risultante di come stai dentro. Tutto correrà, io sono un estremo fautore, sostenitore di questa teoria. Il corpo va di pari passo con la mente. Assolutamente sì. Tu quanti anni hai, Fabio? Io ho 38, da poco compiuti. Quindi, diciamo che ne hai viste un po' di tutti i colori, anche di online, di offline, cosa diresti a una persona magari là fuori che sta cercando qualcuno che lo possa aiutare anche in questo periodo, diciamo, di difficoltà a palestre chiuse? Ma di, sicuramente, di non basarsi sul, come posso dire, sull'apparenza. Nel senso, sì, Filippo può sembrare all'apparenza nelle dirette, nei video, troppo brusco, troppo diretto, troppo arrogante, non fermarsi lì, ma andare oltre, capire, ascoltare quello che dice, ascoltare le testimonianze, e non avere paura di fare, esatto, non avere paura di fare quel passo, perché la paura, bene o male, ce l'hanno tutti, o se non è paura è timore o una malcelata, sì, un malcelato, fiducia in quella persona, superare questo primo passo, farlo subito, soprattutto, senza, e poi vedrai che va tutto liscio, come l'olio, tutta una discesa. Tutto, ovviamente, molto automatico, passati i primi giorni, un po' di assestamento. E a chi là fuori pensa che online voglia dire con non seguito, che risposta gli vuoi dare? La risposta che stesso, un dubbio che avevo io inizialmente, se devo essere sincero, posso dire che nel gruppo Sfera non c'è assolutamente questa sensazione di essere abbandonato a se stesso. Fino ad ora non ho mai avuto questo problema. Tra tutor, capo tutor, non manca l'appoggio, assolutamente. Vorrei semplicemente far notare questo, che andare fuori in piazza a urlare sono buoni tutti, però noi, come vedi, invece di andare fuori in piazza a urlare, abbiamo già mandato praticamente a tutti le schede, e se non è oggi arriveranno domani mattina, e siamo qua, ovviamente, a fare interviste, quindi a prenderci cura di quello che è l'utente finale. Secondo me, le persone dovrebbero ogni tanto capire anche questo, anche se spesso qualche urla in view e qualche rutto di qualche personaggio buca molto di più lo schermo che i fatti, questa è la verità. Più notizia il casino, sicuramente. Assolutamente sì. qual è secondo te la prerogativa più importante del mio progetto? Il tutor, io con le dirette, l'applicazione? Ma, diversi punti, come ti dicevo, sicuramente l'organizzazione, come hai strutturato la tua azienda, perché è un'azienda, e come ti dicevo prima, capo tutor, tutor, nutrizionisti, tu a supervisionare il tutto, le dirette, sì, ovviamente, hanno il suo peso, perché avere giornalmente o quasi giornalmente una diretta dove si parla di argomenti diversi, che non devono essere per forza specifici del fitness, ma abbiamo detto prima anche da un punto di vista mentale, psicologico. Poi, che altro? No, vabbè, questo, essere eseguito, poter contare sul tutor ogni volta che hai il dubbio, ogni volta che vai in palestra un esercizio, mandi il video, dice, guarda, lo sto seguendo correttamente, oppure non posso fare questo esercizio per mille motivi, cosa possiamo fare al suo posto, questo fa la differenza, è inutile negarlo. Assolutamente, sì, e il fatto di avere la certezza di avere una scheda diversa, potendola sempre confrontare con gli altri utenti, secondo me questa è una cosa molto importante, cosa ne dici tu? Sì, no, assolutamente è importante, se io un domani entro nel gruppo, faccio la domanda, scusate, mi fate vedere la scheda, oppure scambiamoci qualche opinione, sicuramente non sarà uguale al 100%, perché nessuno è uguale agli altri, assolutamente. Completamente diversa, completamente, anzi, io spesso invito a fare queste prove, perché è importante, e io intanto spero che tu, tu non c'eri il 4, se non sbaglio. no, no, ho prenotato per aprile, mi raccomando, sarà veramente stupendo, Fabio, cosa vuoi aggiungere, dimmi tu, qualunque cosa che possa magari aiutare qualcuno là fuori, che è giustamente un po' scettico, visto anche tutto lo schifo che si trova nell'online oggigiorno, fai capire attraverso un tuo messaggio che questo è l'unico percorso degno di nota? No, come appunto ho già detto, non avere paura intanto di fare questo passo, di non avere timore o dubbi sull'online coaching, lo può avere magari con altri percorsi, non con te, non con questo, deve fare, si deve, bisogna fare subito il primo passo senza pensarci, quando uno ci pensa, ci rimugina, non è convinto, c'è poco da fare, e ascoltare le esperienze, le testimonianze, quello la dice tu. Sì, e quindi tornando in numeri, qual è stato in questi 60 giorni il progresso fisico che hai avuto? come ti dicevo, come dalla prima scheda, anzi, dalle prime schede alimentare e allenante, sono incorsato, incorsato senza mettere grasso. quanti chili hai peso? Un mezzo, io mi sono pesato intorno al, poco prima di Ferragosto, intorno al 10, se non ricordo male, poi non mi sono più pesato, devo essere sincero, al cambio di scheda che c'era da compilare il questionario, mi sono ripesato un chilo e mezzo, quindi da 68 e mezzo solo muscoli, non massa grassa zero, anzi, mi sono tonificato, soprattutto nelle zone dolenti per me, pancetta, cosce. Quindi andiamo in una progressione di 10 chili all'anno, questo noi ci aspettiamo, ovviamente, come già ti avevo detto, quindi... Allora, l'aspetta al mattino, questo è. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, intanto Fabio, ti ringrazio per questo tuo tempo, grazie di questa intervista, saluto tutte le persone che ci hanno visto nel nostro gruppo Chiuso Fitness Illusion, invito le persone qui su YouTube di venire a conoscere Fabio senza passare da noi e chiunque volesse, ovviamente, avere delle risposte certe, l'unica cosa da fare è entrare, provare, verificare ogni parola che io dico ogni sera. Io ringrazio Fabio, un saluto, un abbraccio, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.